Lavoratori buongiorno, la direzione aziendale vi augura buon lavoro, nel vostro interesse trattate la macchina che vi è stata affidata con amore, badate la sua manutenzione, le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità, la vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina, rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina di attenzione uguale produzione, buon lavoro.